11 novembre, Auditorium Palazzo Montagna Antaldi, ci sarà questo secondo me innovativo convegno. La mente fervida di Michele Ravagli, preparatore atletico anche della Federazione Sportiva e Sport Rottelistici, ha evidenziato come nei periodi dell'adolescenza e della pubertà, sono quelli dei momenti in cui bisogna far capire veramente al giovane cosa sia lo sport. In questo a Monte c'è stato il bellissimo accadimento in cui tre realtà che hanno a che fare con i giovani, come il gruppo sportivo Muraglia, come la scuola di ciclismo del Pisaurum Young Riders, si sono trovati a condividere questa modalità. Quindi di sicuro che lo sport non si fa per sport, però quando per dare concretezza a questo pensiero si passa a dare la visione malata della componente dell'agone, purtroppo si è sbagliato tutto. Ecco, si vuole evidenziare questo aspetto, quindi di come il giovane possa approcciare lo sport e come possa essere quello un modo per iniziare a creare relazioni con gli altri giovani, andando però a dare importanza ad altri aspetti, come quello della relazione, quindi quello dei social, che purtroppo, non direi per fortuna, direi più purtroppo, diventa malato nel modo di relazionare dei giovani e anche il modo della nutrizione, cioè quanto la nutrizione sia un modo dei ragazzi di rispondere o nel quale rifugiarsi. Ci saranno quindi nutrizionisti, ci saranno tecnici dell'alimentazione, ci saranno psicologi, ci saranno counselor, con moderatore per l'appunto quello che è stata la mente fervida che ha ideato questa cosa, che vuole essere innovativa. Michele Ravagli. Questo è un convegno dove mette insieme diversi professionisti che ci potranno dare degli spunti giusti anche per quello che può essere un'evoluzione dello sport. Sappiamo quanto i giovani sono appassionati, interessati alla pratica sportiva, quindi l'obiettivo è anche magari tenerli lontano da quello che è un'attività virtuale, quella dei social, ma dargli degli esempi concreti di persone che tutti i giorni si impegnano per la crescita e per il loro futuro.